Ve le ricordate gli Avion Travel di Beppe Servillo e Fausto Mesolella? E poi c'è Arisa di Attico 31, DJ Axx e DJ Jad. Qui ci sono gli Aria, i famosi Aria, il gruppo rock progressivo di Demetrio Stratos, Giulio Cappiosso, Album Storici, Lorenzo Arbore, tutti lo conosciamo. Piaggio Antonacci, Liberatemi. Questo è un live al Colosseo. Ambra, Angiolini, non è la RAI. Gli Alunni del Sole, che era un gruppo pop di Napoli. Alice, vincitrice del Festival di San Remo con Perelisa. Poi abbiamo visto Carmen Alessandrello, una brava cantante siciliana. Adamo, Adamo fece la notte su Polò negli anni Sessanta. Gli Alunni del Sole. Gli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto. Poi c'è Adelmo e i suoi Sorapis. Questo era un gruppo formato da Zucchero, Adelmo. C'era Fio Zanotti, Dodi Battaglia, Vandelli, Michele Torpedine e il Bassista dei Nomadi. Grazie per oggi, mettete un like se vi è piaciuto oppure iscrivetevi cliccando la campanellina per essere sempre aggiornati. Gli Alunni del Sole Grazie a tutti